Attento! Se non trovi la felicità entro l'uscio di casa, beh, lascia perdere e smetti di cercare. Ma se pensi che questa esista, allora rischia, spalanca la porta ed esci. Ma ricorda sempre che questo atto potrebbe compromettere per sempre la tua esistenza. Tra i nembi troverai la risposta, ma se non la trovi, che cavolo vuoi che ti dica? Non sono mica un indovino. Grazie.